Allora, questo è un quartiere che ha bisogno di manutenzioni. Arte ha individuato all'inizio di 1.400.000 euro le risorse che servono di mettere a posto del COSCO. Ha fatto un progetto e ha individuato come fonte di finanziamento di questo intervento un accordo e gli introiti del piano di vendita che Arte è stata semplicemente attualizzata a fare per il 10% circa del patrimonio pubblico di questa provincia. Quindi, io volevo dirvi questo. Vorrei che voi vedete bene il progetto che ha fatto l'ingegnere Augusto su Arte. Vi fate vedere il progetto. Se il progetto lo converte bene, se volete fare una modifica, facciamo la modifica. Dopodiché finite queste verifiche, il progetto può essere mandato in gara, in attesa di un progetto per un mese. Poi, diciamo, si aspetta la gara, quando le gare si possono anche fare nelle modi, si aspetta la gara e, come dire, contestualmente si vengono quanti alloggi? 850. Con l'introito di questi alloggi che avevano venduti, che sarà assai di più di quello che sarebbe per fare in questo intervento qui, si finanzia questo intervento e, diciamo, entro l'anno, si comincia i lavori. Bisognerà giorno per giorno stare dietro a questi lavori. Questo ingegnere qui è uno che, insomma, queste cose sono una nuova nella WBQ. E li seguiamo giorno per giorno finché non sono fatti bene. Poi c'è un quarto problema, e cioè ci sono alcuni lavori da fare in appartamenti in cui non c'è stato questo intervento, che quelli si fanno ancora con la manutenzione ordinaria, fatte queste le incoglielo date, in modo che loro possano con la manutenzione. Questo lo facciamo noi giovedine già tutto pronto? Poi ci sono tutte le cose già dite, di parcheggio, che basteremo un po' con l'alto, un po' con il gioco. Poi, diciamo, tra due o tre mesi, tra due o tre mesi sono qui, va bene? Perfetto. Grazie a tutti.